I poliziotti delle volanti hanno denunciato a piede libero in procura una giovane di 20 anni per tentato furto aggravato di liquori e formaggio in un supermercato. Ieri mattina gli agenti, dopo una chiamata al 112, sono intervenuti in un supermercato di via Due Fontane dove la giovane era stata sorpresa a trafugare della merce. I poliziotti hanno identificato la donna che ha alle spalle altri precedenti sempre per furti in supermercati, la quale poco prima era stata fermata dai componenti della sicurezza dell'attività commerciale, insospettiti dall'atteggiamento dell'indagata. Al controllo il risultato che la donna si era impossessata di tre bottiglie di liquore Baileys Original e di tre confezioni di parmigiano reggiano da 700 grammi ciascuna, nascosti nel doppio fondo di un passeggino modificato artigianalmente. La merce è stata sequestrata e restituita al negozio, la donna è stata quindi identificata e denunciata. Ora si attende la chiusura dell'indagine.